Ed è tornato a trovarci l'avvocato Guglielmo Cevolin, presidente di Historia Limes Club. Buonasera, avvocato. Grazie dell'invito. Senta, avvocato, facciamo un po' il punto della situazione in Afghanistan. Afghanistan, che all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, era stato inserito dagli Stati Uniti nella lista degli Stati Canaglia, insomma, quelli che ospitano i terroristi. E quindi gli fu chiesto, dateci Bin Laden. Ma Bin Laden non è qui, invasi. E infatti Bin Laden era in Pakistan. Ecco, ma se il motivo dell'aggressione, dell'invasione da parte degli Stati Uniti e della coalizione occidentale era quello di bloccare il terrorismo, adesso, con il ritorno dei talebani, c'è, secondo lei, il rischio concreto di un'altra ondata di attacchi terroristici? Ma diciamo che i talebani, da obiettivo, con il tentativo di colpire Bin Laden, sono diventati alleati degli Stati Uniti dopo vent'anni. E però c'è di nuovo il terrorismo, vediamo per l'aeroporto di Kabul. Il terrorismo è un terrorismo regionale attribuito all'ISIS Khorasan, quindi a degli oppositori al regime che si vuole instaurare, più che al regime, al governo, adesso bisognerebbe chiamarlo governo dello Stato Islamico dell'Afghanistan, se lo riescono a fare però. Dell'Emirato, se non sbaglio. Sì, anche dell'Emirato, diciamo, dell'Emirato si può dire. Però ecco, Emirato è già in contrapposizione a Califato e quindi è chiaro che c'è una contrapposizione tra l'ISIS e i talebani, che in sostanza vogliono fondare uno Stato, un nuovo, nell'Afghanistan, avere un nuovo governo. Ed è per questo che c'è il contrasto da un lato dei talebani all'ISIS e dall'altro lato ovviamente anche degli Stati Uniti che combattono per difendere l'aeroporto e per consentire ancora di andarsene. La lotta è, diciamo, sempre caratterizzata dalla simmetria, perché abbiamo visto il primo attentato che si è verificato di un uomo che si è fatto esplodere, per esempio, e in questo caso sono attacchi imprevedibili e difficilmente si riescono... E contro i quali non c'è difesa, possiamo dire, o quasi, insomma. Infatti, e tra l'altro anche i danni sono stati, sembra anche, causati un po' dalla sparatoria, dagli spari degli americani, che hanno sparato sulla gente, sugli afghani. Dopodiché un altro attacco che sembra sia stato bloccato è un'autobomba sostanzialmente che è stata bloccata con un drone, quindi vediamo i droni usati in questo modo, come i droni sono usati anche per vendetta, per colpire un dirigente dell'ISIS Khorasan che è stato colpito, e poi l'ultimo attacco che è stato proprio di qualche ora fa, quello dei missili Katyusha che sono stati intercettati dal sistema antimissilistico americano. Ed infine l'ultima arma di ripercussione saranno degli eventuali bombardamenti dalle portaerei, che comunque servono per dare l'appoggio logistico ai droni. Il drone è partito dal Qatar per andare a colpire il dirigente dell'ISIS. E quindi ecco, questo è il sistema un po' antiterroristico che comunque non ci sarà, cioè ci sarà sempre un po' più debole per certi versi, e comunque si dimostra incapace di fronte all'attacco umano che è imprevedibile e poi anche pretende un'intelligence sul territorio, intelligence sul territorio che a questo punto la dovrebbero fare i talebani e ci dovrebbero essere, c'è anche, sembra, un dialogo tra l'intelligence dei talebani e l'intelligence degli Stati Uniti per cercare di impedire, almeno in questa fase, questi attacchi. Ma io credo che sia per le forze occidentali sia questa l'unica strada per combattere questa guerra asimmetrica, cioè usare l'intelligence. Ma l'intelligence è l'intelligence? Come usare la testa, ma soprattutto i sistemi di informazione. No, l'intelligence poi è l'intelligence umana, perché gli Stati Uniti e anche il mondo anglosassone sono molto avanzati in intelligence molto tecnologica, ma in questo siamo bravi noi. In effetti, tra l'altro, l'Italia è un paese che è riuscito a fare il rientro abbastanza completo, in realtà ci siamo dimenticati un po' di studentesse che dovevano venire alla Sapienza a studiare e quindi ecco c'è stato qualche... questo perché? Perché con gli attacchi terroristici queste studentesse sono venute all'aeroporto, poi sono tornate a scappare e poi sono tornate il giorno dopo, quindi hanno... anche lì rischiando la vita perché comunque andare all'aeroporto per scappare via dall'Afghanistan è comunque rischiare la vita. Adesso c'è il tema della proroga, vediamo se riusciranno a ottenerla, Stati Uniti con però anche la guida il Regno Unito e la Francia, dai talebani, che i talebani sembra che abbiano detto che se c'è uno Stato che richiede degli afghani all'estero, come dire, avrebbero le carte a posto e lì potremmo lasciare andare, ecco, sono tutti aspetti molto... delle sabbie mobili, ecco, ancora vediamo domani il 31 di agosto, vediamo che cosa succederà. Ecco, ma secondo lei il fatto che adesso l'attenzione si sia giustamente spostata verso l'Isis che sembra costituire di nuovo una minaccia, è come un mostro gli tagli la testa, ne spunto un'altra come l'idra di Lernia, ma ecco, quindi secondo lei è verosimile che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali arrivino anche in chiave di contrasto all'Isis, arrivino addirittura a riconoscere l'emirato costituito, lo Stato costituito dai talebani? Ma intanto bisogna che lo facciano, tant'è vero che ci sono anche già delle defezioni nei talebani, qualche talebano, visto che non gli promettevano una carica, è passato all'Isis, quindi ci sono delle defezioni, c'è un'opposizione, quindi la situazione è molto... ma io penso che il riconoscimento dello Stato, dell'emirato islamico dell'Afghanistan a guida talebana, se riusciranno a fare l'accordo, avrà immediatamente il riconoscimento dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti e quindi le casse della banca afghana, sostanze che sono depositati negli Stati Uniti e avrà anche il riconoscimento perché sicuramente questi sono gli accordi di Doha che noi non abbiamo letto, che noi non conosciamo, però è ovvio che ci sarà il riconoscimento. Benissimo, grazie ancora una volta a Guglielmo Civolini per il suo contributo e appuntamento con lui. Se posso ricordare una persona che è mancata, chiedo scusa, ma è mancato un imprenditore di Fagnigola che ha costruito diversi palazzi a Pordenone, anche vicino al Policlinico, in via Viale Venezia e così via, che è Umberto Trevisan, i funerali ci saranno mercoledì alle ore 13.30 a Fagnigola e io faccio le condoglianze al figlio Enrico che tra l'altro è anche un ragazzo di quelli che suonava nel greco complotto e quindi gli faccio le condoglianze, è un caro amico, è mancato questo genitore che è un grande imprenditore, è un grande lavoratore, è uno di quelli che ha costruito la ricchezza del nostro territorio e che non ricordiamo mai abbastanza. Era doveroso farlo, ci associamo anche noi ovviamente alle condoglianze e ringraziamo ancora Guglielmo Civolini per il suo contributo e appuntamento con lui alla prossima settimana. Grazie.